buongiorno bentornati in un nuovo giorno raga sono andata dall'estetista a fare il penultimo massaggio e poi ho terminato raga madonna c'ho qua la testa mi sta scoppiando non potete capire mamma mia infatti non so se si vede ma ho gli occhi proprio giusti mamma mia sto proprio urgentemente mi devo prendere una techipirina urgentemente però non so vinci finisce ho fatto una lavata a terra ai bambini ai bambini basta con il pesto io invece mi mangio la pasta con il pesto comunque questa qua poi per stasera scongelato qui l'hamburger ho questi bans e queste focacce e quindi voglio fare insomma per stasera dopo metto i piperoni che ci dice io non lo so faccio un pulito un po dappertutto allora 7 14 21 ai bambini di 240 257 grammi che cosa uno? 9 minuti subito si cuoce 1 di grado ma che dici io non ti capisco 30 grammi ah di grado io voglio 1 grado la pasta dei bambini l'abbiamo buttata comunque mi sono pesata di chiperina è passato il mal di testa pesante però comunque mi è rimasto leggerissimo meglio l'oghi però non ho voluto prendere l'oghi perché comunque già sto prendendo antibiotico e tutto quanto l'oghi comunque è un po' più pesante e mi sono voluta mantenere un po' più diciamo sul leggerino però si vede dagli occhi non so proprio mali ah allora prima vanno in stanza là sempre si è veloce ragazzi salatina adesso il salmone è qua basta lo metto a scocciola un attimo questo per farvi vedere è caduto tutto che tengo oh che pranzo complicato mamma mia ho fatto una faticaccia per farlo fu che sudata non ragazzi ho voglia c'ho mal di testa ma metto giusto 5 minuti sul divano straiata non perché voglio dormire e ma faccia la parte ci gioco più dei pomodori oh un attimo mi sembra in arriva allora ci volevo mettere questi due fiocchi di latte e ci ho fatto proprio una manciatella ecco e poi il pomodoro ma quando andiamo da papà sicuramente mangiamo pomodori biologici perché c'è l'orto c'è pomodori, melanzane c'è tutte queste cose no? non vedo l'ora beh io quando vado da papà mi rilasso anche se mio padre ha già a certi orari papà già va a dormire molto presto la sera alle 7 e mezza già sta a letto perché ormai lui è abituato che va a dormire presto e si sveglia la notte ragazzi cioè alle che sveglia cambombra civelle alle 3 di notte 3 e mezza già sta sveglio ma dico io no niente che poi giustamente ormai il suo corpo è abituato a quell'orario e quindi lui più di tanto non riesce a fare tardi la sera e tu lo vedi lì se sono già le 8 e mezza lui dorme proprio sta stanco noi qua mangiamo alle 8 e mezza in estate vabbè in inverno mangiamo pure noi alle 7 7 e mezza lui in inverno ai 6 si mangia ma pure in estate solo per questo noi non siamo abituati noi proprio no il nostro pomodoro non ci lo metto ma mi scoccia tagliallo il mio prezzetto è pronto ora ci metto olio ora ci freddo ci metto questa glassa alla soia con aceto balsamico solo per ciò caldo e appunto ci metto tutta la copertina ah no ce l'ho presi al depo aspetta ora sta con christian è andata con christian eh perché ma te ne sei accorto che christian è andato un attimo con mia mamma christian ma se ne è cotto io non lo so perché che c'è perché doveva rimanere qua perché doveva rimanere qua che fa che è andata con christian ecco va bene così io l'olio non vado a un cucciaio vado ad occhio allora allora questi qua le metto in frigo questi hamburger io li volevo fare a pranzo poi ho detto vabbè alla fine li faccio stasera a proposito fammi prendo pure un attimo i biberoni e dopo stasera ma finino cospita è notte mi scordo di metterli a cuocere più circa di cincinzino no non sai poco è un colomodra poco piena uno l'ho dovuto buttare perché era quasi era marcio ecco qua io ho messo 180 per 40 minuti stai preparando un dolce che dolcino è vince che dolce stai facendo vince un dolce all'acqua all'acqua bravo leggeri bravi mi si è favorito dolcino sta guaggiotlo madonna che puzza qua dentro proprio di di non mi vedo di vomito mamma mia una puzza di acido una cosa incredibile dopo saliamo a piedi mamma mia mamma mamma aveva ragione zia io e jp andiamo a piedi cioè andiamo a piedi andiamo a messa guardate le mani che no eh ragazzi siamo arrivati ci siamo fatti una bella doccia al volo e la messa dovrebbe iniziare alle 7 ma non lo so perché a questa chiesa qua dove abito io non vado mai guardami no non si dorme in chiesa mamma mamma mi stancho a vedere ti stanchi piccolina ne faicare le portatue la croce a mamma ecco sto figlio mio si guarda mi sono e poi e poi mi svegli si però non gridare quando parli c'è un vizio che grida mi svegli mi svegli ci portiamo pure il dolce stasera ci ho messo la salsacetta ma perchè ce l'hai dato sopra il divano ecco qua ebbe uguale mamma si scarico che ci vediamo? ho dei zeppoli se non c'è la tua cornetta ho un bacino a chiesto ci ha lato bravo come ti guardo? non c'è un bacetto non ci sono eạ non ci sti non ci sti si è San Giovanni eh? è grudato si è San Giovanni mi ha detto mi ha detto io sono gialla ma io è rossa mia vieni qua vieni qua cosa le giudasci vieni qua vieni vieni qui vieni qua vieni qua la mamma vieni buongiorno e bentornati in un nuovo video raga ah con il suono troppo bellissimo sto proprio carina con la gola bello sto prendendo l'antibiotico però caccia fa ti volevo ti volevo domani è è compleanno come cazza se dice in inglese? complex complex? no 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 felicità felicità di Vincent oh fa 12 anni 12 anni raga 12 anni mamma mia sembra ieri che ero piccolino 12 anni ora ora facciamo la pappa noi la pappina tu sei bella ma sei pure una cioccolona è vero? mia è bella è bella ma allo stesso momento è una grande stronzona ragazzi mi sta scassando tutta la casa copritivano da poco messo c'è già un poco sopra non c'è più ma ho detto a Cristina Cristina mi raccomando dove metti gli occhioli se no fai la mia stessa fine speriamo ah bello caffè beh no bello caffè perché avevo in mente la canzone ah che bello caffè che bel cappuccino diciamo insomma non è più un latte macchiato il cappuccino non me lo faccio perché ci sta così di latte così e ton di schiume e quindi no ecco qua ok ai bambini ho preso le zeppole e io mi mangio i biscottini insomma così li lavo da mezzo vi dico la verità stamattina a parte che devo andare a messa come una colliance mi sono svegliata alle sette perché mi ero messa alla sveglia ma mi sono tranquillamente riaddormentata mia vedi qua e mi sono sveglata alle sette e mezza inoltrata in poche parole quindi non sono andata da nessuna parte e poi non sapevo se andare oppure no al mercato però alla fine ho detto senti comunque andiamo via settimana prossima quindi vado al mercato compro tanta roba e non la consumiamo ma che serve e quindi ho pensato magari stasettimana che ne so voglio fare peperoni voglio fare zucchino voglio fare qualsiasi cosa se voglio un po' di cocombro sai prendo uno spicchio e basta e come sai prendo i peperoni prendo due peperoni capito? senza che andavo al mercato comprava tanta roba perché? aspetta mia ho detto vabbè vado ma anche al mercato e va bene così e stanno qua i miei piccolini questi qua sono quella che la misura con le gocce di cioccolato perché ieri i miei figli l'hanno aperto ma non gli piacciono ho finito tutto però le merendie infatti ma vediamo se oggi arriva un attimo al Lidl ma vediamo un attimo vado a comprare il congelatore devo dire la roba di carne ce l'ho però o mi faccio un menù settimanale questa settimana per vedere quello che c'ho in frigo quello che mi serve capi? per non spendere soldi in cose che poi non mi servono ma vediamo qua un ottimo paura un buon un buon un buon ok allora ho fatto un attimo il letto e mi sono anche cambiata perché mi è venuto anche il ciclo ragazzi mi ero proprio resa conto comunque mi sono lavata cambiate tutto e adesso metto a pulire il bagno comunque mentre pulisco il bagno aspetto per un attimo diversivo la pulisco un po questo qua della home star pare così sta scritto non mi ricordo power star star comunque me li ha mandati una di voi elena su instagram vi ho messo di metto anche il tag mentre questo quella cantigina questo appunto ci pulisco i pezzi in acciaio questo qua la ceramica tutto comunque su instagram ho preso una rilla dove ho pulito sto terrazzo fuori il nostro balcone fuori e facendo riferimento a questo con me che poi ho anche risposto alla signora e tutto signora signorina insomma non lo so e che anche lei scriveva anch'io vorrei questo terrazzo per far giocare i miei figli e tutto quanto e gli ho risposto che la vita è una discesa una salita raga io e giuseppe abbiamo iniziato che non avevamo nulla 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 veramente nulla comprammo una cucina usata la cercamo subito mamma ci comprò la camera da letto quelle le economiche 400 euro qualcosa che poi pagò lei mi pare un 200 euro in altre 100 euro noi non mi ricordo insomma come andò a finire comunque non la poco completamente lei però la maggior parte sì e il bagno arrangiato un mobiletto che non mi ricordo se già c'era oppure ci diede qualcuno è la lavatrice dello zio di giuseppe ottenuto fino insomma pochi anni fa 45 anni fa non mi ricordo sei anni fa e niente quindi giuseppe abbiamo iniziato veramente con il nulla è capitato tante volte se io forse ecco adesso magari compro è perché c'è stato un periodo della mia vita che non avevo non avevo nulla cioè a volte uscivo veramente senza soldi a volte avevo solamente due euro in tasca quindi a vedete sono tante cose che uno giustamente non ne parla perché fanno parte della della privacy quindi cioè dire che tanti anni fa uno era così era quelli no questo però prima che c'è molto molto prima che mi mettessi su youtube da quando diciamo che da quando da dopo cristian un po prima che rimanessi restasse incinta di jacobo era così poi insomma pian piano si sono evolute le cose cambiamo anche casa e andammo la al centro di angri e tutto quanto abbiamo comprato la cucina nuova e tutto però insomma inizialmente era così quindi capito non c'è uno non è che vede bella vita questo e quell'altro vi ripeto la vita è una salita e una discesa anni fa mi è andata tra virgolette male a livello economico magari adesso sta andando bene fra qualche anno mesi giorni non si sa oppure non accadrà mai potrà di nuovo essere no tosta bisognerà di nuovo risalire anche se comunque è tosta perché le spese ci sono i problemi ci sono poi io non sto qui a dirvi se ho problemi in casa oppure no c'è uno non sa niente della mia vita sapete i momenti che io vi faccio vedere però la mia privacy è la mia privacy non sapete le mie cose e quindi a volte anche dei vostri commenti dei vostri giudizi io non mi feriscono perché so chi sono sole le cose che affronto e quindi non non mi feriscono lo sapete che dico io gesù un giorno che queste persone che magari hanno fatto questa critica oppure hanno detto questo quell'altro è un giorno moriranno e sarai tu a dirgli loro la verità è pasta cioè io so proprio tranquilla avete capito perché certamente sono cose mie non posso dirle dirvele assolutamente però il signore un giorno ve lo dirà a lui vi dirà ti ricordi quando è Deborah hai detto questo questo ma tu sapevi Deborah cosa stava affrontando no e allora perché non è stato giusto no vabbè comunque a parte gli scherzi però veramente io rido e scherzo ma ognuno di noi ha delle cose da affrontare chi è più leggeri chi è più pesanti giustamente dipende e questo è vabbè comunque questo è per dirvi che la vita è una salita è una discesa non è sempre oro quello che lucci pure io e giuseppe vi ripeto siamo partiti dal nulla veramente nulla quante volte ho fatto mio marito io lo dico spesso mio marito poi ti predice che è spendo eh beli eh hanno stato belito che manco lui avrà andato sotto anche se il materiale alla fine non ci porta da nessuna parte per carità questo è poco ma sicurissimo molto sicuro infatti se vedete scerta pelle per casa a livello di oggettini cose pure prima compravo tante cose ma adesso sto cercando un po' di trattenermi per esempio le cose sì ma autunno inverno natale facendo anche dei video devo comunque portare un po' di contenuti no? e quindi magari prima compravo dieci pezzi ma ne compro che ne so quattro cinque però comunque devo comprare qualcosina perché appunto facendo dei video sulla casa pulizia organizzazione cioè queste cose qua e anche fa parte anche del mio tra virgolette lavoro insomma del contenuto che porto capito? però mi trattengo molto in confronto proprio all'inizio eh eh questo è ragà lo fa pure i pedi sotto le scelle mamma mia oddio il lavandino ho pulito ma tocca tazza e bidet tazza bici ma com'è carino mio figlio con gli occhiali sei proprio bello mamma sono arrivati ieri sera gli occhiali eh come ti trovi? un po' fastiglia eh? un po' fastiglia un po' fastiglia bello inizio comunque questo qua è il buchetto che mi ha fatto mia che devo cucire prima che me lo rompe piccolina però è piccolina ma tra poco se non lo cuccio diventerà gigantesco comunque lì si alzi poi c'è sia il latte e no il succo non c'è pensavo ci fosse il succo il frigorifero comunque ormai a noi è vuoto è coperto la zippola stanno qua eh va bene rossino guarda di là ho fatto il mio letto ho pulito il bagno ora ho iniziato a fare il letto di Cristian e io ho potuto dorme ancora adesso prendiamo l'oro Vesuvio la spugnetta magica raga la vado a bagnare e vado a pulire un pochino il mobile in cameretta che ho fatto pulire un po' dietro il mobile faccio vedere che sono qui anche c'è quello qua il bordino abbiamo ansiede perché non me lo metto proprio a fuoco comunque vedi a parte le varie ammaccature che i miei figli hanno fatto hai visto? cioè era bianca eh eccolo qua il pranzetto di oggi lo spengo raga ho usato gli spaghetti integrali perché i normali non ce l'ho comunque ho fatto pasta spaghetti risottati il pomodorino fresco l'ho tagliato da parte l'ho cucinato da parte e poi ho unito il tutto il prezzemolo e niente ora mangiamo ho buttato mezzo chilo di pasta secondo me erano poche esagerate però mio marito ha detto che ha fame quindi se Giuseppe ci dice che ha fame dovrebbe mangiare tutto tutto prendo questi piatti qua perché ho la lavastoviglie piena e io come una cocomerona non l'ho messa neanche a fare non capite? comunque a me sta antibiotico sta portando un prurito addosso c'è pure il telefono sporco eccoci qua allora siamo tutti quanti ma stiamo aspettando Alfie e Ida andiamo da Giunicor raga mi gioca la mele che è male non hai spietti ah e non stai scazzando delle i biconi stanno venendo andiamo da Giunicor a fare una passeggiata ah ci sto volandino ho una bella offerta posso voglia eh e quindi andiamo la allora Alfie vai Alfie o Ida eh ok siamo arrivati da Giunicor tornai a casa vi faccio vedere cosa abbiamo preso da Giunicor e ragazzi ci siamo trovati ho preso un po' di cozzine anche per la scuola soprattutto i quaderni che costavano pochissimo il pacco da 10 3,90 euro all'incirca si 3,90 euro quello è un compasso l'abbiamo preso uno due tre quattro cinque pacchi di di quaderni perché poi non so i quadretti Jacopo se utilizzerai i quadrettoni oppure i quadrettini quindi per il momento a lui i quadretti non glielo ho presi perché quali sono i quadrettoni poi ho preso le copertine queste qua per Cristiana poi vedremo è il diario mio sì ma tanto non lo userai sì perché vedremo poi insomma le copertine ma sì i diari ragazzi i diari 1,50 euro no 3 euro ah questi qua 3,50 euro ok 3 euro ok quindi uno celeste uno verde poi abbiamo preso i colori ce ne va stanno qua questo di chi è? Vincenzo scusami un altro pacco di colori dove sta? a che mi piace? chi si calla fino? no che le legno ma questo è di chi è? è di Vincenzo fermati un attimo comunque abbiamo preso un po' di cosa beh accenditi per me poi abbiamo preso le colle che erano il tubettino grande mamma mi prendi i piedi poi questi qua no no domani poi Vincenzo ha preso queste cosine qui per il compleanno aspetta GRI i palloncini i piatti le candeline i bicchieri ok Cristian a me questi sono i pene no a te scono già nella stuccia le pene ho preso queste qua per Cristian bianchetto vabbè rimperino tutte le cosine qua per la scuola poi ho preso questi piatti di carta i strofinacci qui in microfibra la marca Movida ho trovato questi qua troppo carini li ho voluti poi in dove i misurini Jacopo di Sanomandesi chili gel prezzo 1 euro e 70 mi pare in offerta buono questo detersivo 1 euro e 99 veramente un buon profumino carta igienica ho trovato questi vassoietti che li adoro raga uno questo qua lo voglio utilizzare come tagliere invece questo qua lo voglio mettere sulla cuscina ho preso due panni uno per fuori e uno per dentro per fuori ho preso uno scomerone poi ho trovato questo alcol spray aceto di alcol questo qua che voglio vedere se ci va nella frigitrice ad aria che c'è GRI e poi ho preso questa combo raga ve la stra 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 consiglio veramente ottimo questo qua è il VIV Dream Long proprio per chi ha i capelli lunghi e lisci e poi vabbè dentifricio e ho preso questo spray 50 centesimi della L'Oreal per quando fai le trecce è un fissante e questo è tutto ciò raga vincenzo ha preparato i muffin per il suo compleanno di domani cioè guardate come stanno crescendo una meraviglia bravo Vinci guardate dove ho messo allora qui il vassoietto quello la di marmo effetto marmo l'ho messo qui carino carino e quest'altro per adesso raga l'abbiamo appoggiato qui perché non so dove metterlo e poi questa qua che secondo me non ve l'ho fatta vedere l'ho pagata solamente un euro buon compleanno Vincenzi l'abbiamo preparato già per domani mattina domani mattina facciamo la foto comunque Vincenzi sono molto euforico per il suo compleanno di domani mi stanno preparando già i dolcini là giù sono pronti perfetto la cenetta finalmente è arrivata alle 10 però non mi fanno un casino però non mi fanno un casino che fa tanti tanti auguri a Vincenzo tanti auguri a Vincenzo tanti auguri a Vincenzo vai spingi la candelina vai bravo ok ok raga a casa giornatina terminata c'è qui con me Cristian e di là stanno Pietro Vincenzo e Jacopo vai qui chissi di Enrico Giuseppe Sanella a tua letto e niente ci vediamo domani sorpresina è riuscita anche se Vincenzo è un tipo un po' allora Tim gli piacciono le sorprese però non gli piaceva questo fatto che poi c'erano le persone che lo guardavano non era stato solo lui eh voleva stare da solo comunque ci vediamo domani con un nuovo video un bacio vi voglio tanto bene ciao 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 ciao